sì ciao alex sono razzo tutto bene salutami la bionda come stai io bene giulio base no alex non mi manca nessuno alex sto bene sto da dio la natura non ti sento alex no io ho approfittato per fare riflessione su me stesso capito tante cose ho letto il libro letto il libro hermanes siddhartha venuto ispirazione faccio film the last shaman non ti sento alex ciao italia ciao 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 ciao